Oh, ma dov'è il Filippo di una volta? Il Filippo al quale io feci da testimone il giorno delle nozze? Il Filippo che giurò eterna fedeltà alla famiglia? Quella famiglia che ha la base della vita, come diceva Don Luigi Sturzo. Dov'ho ricordi Don Luigi Sturzo? Dov'ho ricordi? Lo dovresti ricordare? C'hai fatto la tesi di laurea, eh? Senti sto passo di Don Luigi Sturzo. La famiglia è alla base della vita. E la vita è molto spesso anche sacrificio. Sacrificio, noi della democrazia cristiana... Comunque sia, Sturzo o no Sturzo...